Assessore Gatti, cosa sta facendo la Regione per fronteggiare la crisi? Sta facendo tante cose da ormai un paio d'anni e infatti sia pure tra tante difficoltà l'abbiamo fronteggiata un po' meglio di tante altre Regioni. In questo momento in particolare stiamo portando avanti il progetto Lavorare in Abruzzo 2. Si tratta di 15 milioni di euro che mettiamo a disposizione delle imprese che vogliono assumere e alla fine con questo progetto daremo l'opportunità di lavorare a 1500 persone in Abruzzo e non è poco. Parliamo un po' di più di lavorare in Abruzzo 2. Cosa prevede? Come funziona? Prevede incentivi nella misura di 10 mila euro per ogni assunzione per le imprese che faranno domanda. Possono fare domande tutte le imprese che ricadono nei territori di crisi così come individuati da Regione e nei territori non di crisi le imprese che fanno parte dei settori di innovazione. Basta leggere il bando sul sito della Regione, noi aspettiamo tanti progetti, li valuteremo e ripeto, alla fine con questi 15 milioni produrremo oltre 1500 posti di lavoro. Quindi più opportunità anche per i giovani e anche per le donne? Assolutamente sì, sulle donne abbiamo già avuto risultati molto importanti. L'Abruzzo è la Regione che nell'ultimo anno ha creato più posti di lavoro per le donne in tutta Italia e adesso se ne viene anche per i giovani, nel senso che speriamo di poterli aiutare con questo progetto ma di poter aiutare tante altre persone, anche meno giovani, che hanno perso in questi due o tre anni di grande crisi globale il loro lavoro. Grazie.